Con i digitali terrestri, Mediaset ti offre tanti canali in più. La 5, Extra, Iris, Boeing, TG Mediaset e le versioni HD di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Sei sicuro di riceverli tutti? Se pensi di avere un problema, resintonizza la tua TV o il tuo decoder. Per informazioni chiama il numero verde 800 123 450 o visita il sito www.dgtvi.it Non rinunciare alla TV che ti piace, basta poco. Davvero.